Secondo la Ligienda e la Cronaca di Giovanni della Grossa, i primi castelli di Gorsica sono stati alzati da Ugo Colonna e i sogumpagni, venuti da Rom a un'oesimo secolo da liberare l'isola dai muri. Tommo re Nugulone, Ugo si neultò in Rom lasciando l'isola sotto a Ogumonde di Uvilio del Bonifatio e in mano a Isovassali. In lotto 134 l'isola fu spartuta così. Guido Zavelli, poi Uvilio Lupino, pigliò il titolo di signor di Balagna e fece il castello di Sant'Antolino, so all'origine di un ceppo detto di Pinaschi. Amando Nasica, prima di Lamondaschi, era signor di Golo. Presto sarà nel Lamondaschi signor di Venaco, Talcini, o Mercorio, o Niodo, Giovelino, Rustino, Casacone e Custieri, vala di tutti i luoghi, longa o Viummi. Faranno, tra altri, il castello di Saravale. Ganelon di Maganza era signor di Coasena e fece il castello di Coasena in Duvio Morbo. Carpata, poi Ramondino, era signor di Taravu e fece il castello di Ornano. Argutu era signor di Cavro, con il castello di Talavento poco di Cavro. Orlandino, o nipote d'Ugo, era signor di Vicu e fece il castello di Letia, non t'avvio di Catena e di Neparo, non t'avvio sopra il piano. Dardano era signor di Celavu e fece il castello di Salasca, forse in un luogo detto Roccavetia, sopra il paese di Iperi. Cinarca, figliolo minori d'Ugo, era signor di Cinarca e fece il castello di Capradia. Usò il castello all'orlo di Omari. Sarà il più castello importante dell'isola, posto che usarà il castello da Pusseda, per diventare conto di Gorsica. A branca di Cinarca, detta di Cinarchesi, è all'origine di tutti i signori Gorsi di Uppumonti, i d'Alecca, i d'Alarrucca, i d'Urnano, i d'Aboze e d'Istria. Tutti all'Epega erano sotto l'ordine di un vigliolo maiore Bonifazio, o Gontibianco, che fece la città cosiddetta. I suppuredi fecini e tensini sino al XIII secolo, il castello di Gappula, detto di Bianculacci. Li avevano i gacciati da iudici di Cinarca, che pigliò tanto il potere per diventare conti di Gorsica. Altri vetti i castelli non sono manco citati da Ucrunacadio, per indetto qui di San Colombano di Ruliano, che passò dai mani di Avamiglio Bertenghi, favorizzati dai Pisani, ai signori un uvesi da mare. E da mare si pigliò non con i castelli dei moti, che era di Avamiglia Lucali, dette da Campo di Luri, sino al 1249. Dopo, secondo l'andà di Astoria, sti Avamigli signorili, spartuti tra signori e gentilomi, alzarane assai e assai i castelli in tutta la Gorsica, sino al XV secolo. Eccone un esempio di un castello di Azzirulina, alzato in faccia a Lettia da Rinuccio da Lecca, cucino di un conte di Gorsica di Juan Paolo, o qui di un gorti fatto da un conte vincente di Istria. Si può parlare di un castello di Roccatadatta, fortificato da Rinuccio della Rocca, e struttato dagli Nuvesi verso 1502. Di Roccadesia, castello di Juan Paolo, ricostituito qui con un disegno, o di quello da Rese in faccia todda, poco conosciuto quanto a quello di un riccio accanto al podio da Talà. Chi si può pensare di un castello murato, o un castello Montalbi in Ginarca, scrunisciuto che i nemuni parlano mai, di un castello di Roccapina posto in Antaugapo di Ulioni, che minacciava i buoni fazzinchi, di quello di Tavera occupato da Pristoria o Medievo. A Gortiga era un luogo cupato a castelli, che formavano un vero ritale di difesa dell'interno. Spiantati questi e l'ampattivoro tombi signori Gortzi, l'isola diventò vittima di laboti barbareschi, che è di un po' di anni difenda i torri fatti dai Linuesi al XVI secolo. Vi propongo una piccola visita di un castello di Ginarca, castello fatto all'orlo di Omari e alzato da un luogo occupato da Pristoria all'antichità sinché diventasse un castello di Ginarca, spiantato dai Linuesi dopo la creazione di Adiacio. Adiacio era tanto un simbolo nuovo di un potere straniero che pigliò la soprana dei nobili Gortzi. Posto nella punta lecca era pruisto di una torra maiò chiamata torra bianca che i suoi muri erano scialbati a calcina e di una torra quadrata più zugga. Accanto c'era un bastimento ritangolare con parecchi piani appiccicato dalla torra maestra. Il castello è fatto a 93 nivelli. Nel più alto c'era la piccola torra. Da qui si vede il mare e, a lontano, i battedi di curagliati di Nuoveso Bonifacinchi. Il più basso nivel è quello dell'entrata chiamato la porta. Ecco ciò che dopo di essa ho gastato all'epica di un conto di Juan Paolo da Lecca all'oro di un XVI secolo e di questo nonso che è così astrutto dai Linuesi. all'epiccola. 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 Andromante All'epiccola.